Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi piacerebbe parlarvi con voi delle posizioni. Le posizioni intese sia da fermo che in movimento. Sono presenti appunto nelle discipline che avevo citato l'altra volta e ognuna ha delle caratteristiche che la rappresentano. Nel modeling sono da fermo con distruzioni di contesto, nelle hipo sono ogni singola posizione un esercizio. Nell'obbine hai sia da fermo che in movimento e nell'aipo R hai una via di mezzo tra una parte in movimento e una parte da fermo. Le posizioni trovo che siano molto interessanti perché danno un'idea di lavoro se fatto bene molto pulito. Un cane che si siede molto veloce con una bella espressione che fa vedere un bel atteggiamento è estremamente apprezzato in generale dal tipo di giudizio che può esserci. Ovviamente ci sono dei margini di errori, il cane può sbagliare, può essere lento, è classico due tempi dove il cane fa due movimenti per sedersi. Però per me sono molto spettacolari, mi piacciono tanto sia da preparare che da vedere un lavoro ben fatto. E credo che l'estremizzazione da fermo sia proprio l'obbidence perché tra l'altro è l'unica disciplina da fermo che prevede un comando per movimento, quindi nel senso che si intende da seduto a terra è diverso che da in piedi a terra e viceversa. Quindi in questa disciplina l'obbidence si possono dare più comandi per dare perché non è solo metti il culo a terra come nel seduto ma è se parte dall'in piedi c'è movimento e se poi ti atterri o c'è un'altra movimento. E questa cosa è interessante perché ti dà proprio tipo come in questa disciplina si possa vedere e strutturare un discorso di precisione. Nella Ipo come sempre c'è un discorso anche di espressioni e spettacolarità che emerge un po' dagli altre situazioni. Nella Ipo R hai seduto durante la marcia e poi il richiamo con altre due, perché questa è la terra in piedi con il richiamo, quindi è un durante la marcia però con un pezzo da fermo, quindi anche questo è molto interessante perché è l'unica che è così. Ed il Mondial Ring di per sé, come sempre, pochi punti, se ne perdono pochi, il cane può sbavare senza avere troppe ripercussioni, però il problema è sempre il contesto dove è messo, dove si parte e poi c'è il richiamo al conduttore. Inizierei con farvi vedere appunto i video e le spiegazioni tramite il regolamento. Iniziamo dal Mondial Ring. In categoria 3 ci sono sei posizioni, quindi due volte la singola posizione è ripetuta, si è ripetuta due volte e ogni posizione ha validità di tre punti. Il richiamo al piede, che poi sarà fatto a fine delle posizioni, sono due punti in categoria 3. Descrizione dell'esercizio. L'esercizio sarà svolto al suolo, il cane e il conduttore si devono vedere, a distanza di 5, 10, 15 metri, quindi in categoria 3, 15 metri, secondo la categoria 1, 2, 3. Il nome del cane davanti al comando della posizione è tollerato, ma dovrà essere unito al comando, altrimenti non è un doppio comando. Il comando può essere preceduto dal nome del cane. Nel giudizio si deve fare distinzione tra l'avanzare delle posizioni, meno un punto per metro, e ritorno anticipato, sanzionato con la totalità dei punti restanti dell'esercizio. Per ogni posizione, il conduttore ha diritto a due comandi supplementari. Se dopo il secondo comando supplementare il cane non ha eseguito la posizione, l'esercizio è terminato e i punti già acquisiti restano tali. Anche per la posizione iniziale, se il cane la sbaglia, dovrà essere obbligato a dare un altro comando, due comandi supplementari autorizzati. Il cane che anticipa una posizione ha una posizione in meno, quella che non ha mantenuto. Può eventualmente perderne un'altra se quella che ha assunto corrisponde alla posizione seguente. Per evitare che il cane ottemperi a un'indicazione del commissario da data troppo forte, si propone di utilizzare il sistema del triangolo di segnalazione, dove ciascuno dei tre lati indica una posizione dipinta in uno schema, usato in obedience. Si precisa che fino a quando il commissario e il ruice non hanno indicato la posizione successiva, il cane deve mantenere la posizione precedente. Se sbaglio il conduttore deve ricomandarla. Se nella successiva posizione è indicata e il cane si muove assumendo la prima del comando del conduttore, perde questa posizione che ha anticipato. Adesso affrontiamo l'IGP. Come dicevo prima, in questa disciplina le posizioni sono divise. Abbiamo seduto una terra marcia, il terra marcia a corrichiamo e gli impiedi di una terra marcia a corrichiamo. Nella categoria 3 ci sono delle parti in corsa che leggeremo. Comunque per differenziare che sono tre esercizi singoli, non è uno con tutti e tre. Partiamo dal seduto. La prima parte è la posizione base iniziale, svolgimento della condotta e esecuzione del seduto che vale la metà dei punti. La seconda parte è l'allontanamento del cane e il ritorno del conduttore, dal cane e il ritorno del conduttore, posizione base finale, l'altra metà dei punti. Dopo lo svolgimento di 10-15 passi al comando per il seduto, il cane deve subito sedersi nella direzione della condotta, senza che il conduttore cambi la sua natura o si gira a guardarlo. Il cane deve rimanere seduto, calma e attento al conduttore. In tutti i livelli il conduttore si allontana di almeno 15 passi e si gira verso il proprio cane. Al comando di giudice il conduttore ritorna dal cane. Criteri di giudizio. Sono da penalizzare, sedersi lentamente, non tranquillo e non concentrato sul conduttore. Se il cane rimane in piedi o va a terra, sarà penalizzato nemmeno metà del punteggio. Terra con richiamo. Parte 1, posizione base iniziale, svolgimento della condotta, esecuzione del terra, 50% dei punti. Parte 2, chiamata, seduto di fronte al conduttore, posizione base finale, 50% dei punti. Lo svolgimento di 10-15 passi viene effettuato da natura normale nelle classi inferiori, quindi 1 e 2. E nella 3 ci sono, dopo 10-15 passi normali, 10-15 di corsa. Al comando per il terra, il cane deve subito mettersi a terra, dritto, nella direzione della condotta, senza che il conduttore cambia da toro sui giri per guardarlo. Il conduttore prosegue per almeno 30 passi nel GP3 correndo e si gira verso il suo cane. Questo deve rimanere tranquillo e concentrato sul suo conduttore fino al momento della chiamata. Sul comando del giudice, il cane viene chiamato con il comando per venire con il suo nome. Il cane deve venire dal conduttore con piacere determinato e deciso e porsi seduto dritto vicino davanti al conduttore. Al comando per la posizione base, il cane deve porsi a sedere direttamente in posizione base, che ricordiamo qui sulla sinistra. Criterio di giudizio. Sono da penalizzare cane che va a terra lentamente, stare a terra non tranquillo e non concentrato sul conduttore. Non concentrato sul conduttore molto ovviamente si intende come cane che non guarda il conduttore, ma si guarda in giro. Ritornare dal conduttore senza determinazione, quindi un po' lento. Aiuti del conduttore al cane, come ad esempio stare a gambe di varicate. Se il cane rimane in piedi o seduto, l'esercizio sarà penalizzato della metà. Se il cane non viene dal conduttore, dopo il secondo comando suplementare, l'esercizio sarà votato 0. In questo caso il conduttore può andare a prendere il cane e continuare la prova. In piedi durante la corsa, sempre in categoria 3. La prima parte, posizione base iniziale, svolgimento della condotta, esecuzione in piedi, vale la metà dei punti, sempre 50%. La seconda parte, chiamata, seduto di fronte al conduttore, posizione base finale, 50% dei punti. Dopo lo svolgimento di una condotta di 10-15 passi di corsa, al comando del conduttore, il cane deve subito fermarsi diritto nella direzione di marcia, senza che il conduttore cambi la sua andatura o giri a guardarlo. Il conduttore continua a correre per 5-30 passi e si gira verso il proprio cane. Questo deve rimanere tranquillo e concentrato sul conduttore fino al momento della chiamata. Al comando è il giudice, il cane viene chiamato con il comando per venire o con il nome del cane. Il cane deve tornare al conduttore con piacere, determinato e deciso, e porsi seduto diritto e vicino davanti al conduttore. Al comando per le posizioni base, il cane deve porsi a sedere direttamente in posizione base, rispettando i tempi. Criterie di giudizio Sono da penalizzare una fermata non immediata, restare non tranquillo e non concentrarsi sul conduttore, tornare senza determinazione, aiutare il conduttore come ad esempio stare a gambe di varicata. Se il cane si siede o va a terra, l'esercizio sarà penalizzato di almeno meno 5 punti. Se il cane non viene dal conduttore, dopo un secondo comando supplementare, l'esercizio sarà votato 0. In questo caso il conduttore può andare a prendere il cane e continuare la prova. Queste sono le posizioni da IGP. Parlando di obedience, loro in questa disciplina hanno due posizioni, durante la marcia e da fermo. È proprio specificato. In piedi, seduto e terra durante la marcia, che ha coefficiente 3, e posizione a distanza, che ha coefficiente 4. E andiamo a leggerle. Comandi in piedi, seduto e terra, piede, 4 volte. Esecuzione. L'esercizio è svolto secondo lo schema allegato. Durante la marcia il conduttore comanda il cane sull'istruzione del commissario di assumere la posizione in piedi, seduto e terra. Il passo sarà sempre normale. Ci sarà una svolta a sinistra e una svolta a destra. I punti di svolta a sinistra e destra saranno indicati da piccoli coni. L'ordine delle posizioni e l'ordine della svolta a sinistra e a destra può variare, ma sarà lo stesso per tutti i cani in una competizione. Il commissario dirà al conduttore quando partire, quando dare il comando al cane e quando fare dietro al front. Le fermate saranno circa a metà, 5 metri, della linea di 10 metri. Il conduttore continua a camminare per 5 metri, circa al successivo punto di svolta. Fa dietro al front sul comando del commissario e continua a camminare verso il cane. Lo oltrepassa alla distanza di circa mezzo metro, lasciando il cane sulla sua sinistra e continuando a camminare per circa 2 metri. Fa dietro al front sul comando del commissario e cammina verso il cane. Una volta raggiunto il cane, il conduttore dà al comando piede senza fermarsi. Essi continuano fino al successivo punto di svolta, 5 metri, svolta alla sinistra a destra e avanti fino al centro del successivo segmento. L'esercizio continua in modo simile alla prima fase dell'esercizio. L'esercizio termina quando il commissario ha dato il comando di fermata e ha annunciato l'esercizio terminato. Le posizioni in piedi, seduta e terra devono essere parallele alle linee immaginarie che uniscono i punti di partenza, svolta e arresto. La distanza tra il cane e i punti di svolta sarà di circa mezzo metro, tenendo in considerazione le dimensioni del cane. Gli angoli devono essere di 90 gradi, non arrotondati. Il conduttore e il cane dovranno superare i coni d'angolo del lato destro, lasciandoli sul lato sinistro. Direttive Se il cane si ferma una volta solo in una posizione non corretta, esempio seduta invece che terra, o se il cane perde una posizione e non si ferma nella posizione corretta entro una lunghezza del cane, non si possono dare più di 7 punti. Se il cane ha bisogno di un secondo comando per fermarsi o assumere la posizione corretta, la posizione è mancata. Se il cane non si ferma in una qualunque posizione, cioè non si è fermato prima che il conduttore abbia effettuato il dietrofondo, l'esercizio è fallito. Se il cane segue il conduttore dopo un comando di fermata, in piedi, seduta e terra, si può usare un comando supplementare per fermare il cane. Se il cane si ferma prima che il conduttore abbia raggiunto il successivo punto di svolta, l'esercizio può continuare, ma non si possono ottenere più di 6 punti. Vi ricordo che è moltiplicato. Per avere punti in una data posizione, il cane non deve muoversi più di una lunghezza dopo il comando ed assumere la posizione comandata, in piedi, seduta e terra, prima che il conduttore abbia raggiunto un punto di svolta. Per avere punti per l'esercizio devono essere eseguite almeno due posizioni. Nel giudizio si dovrà prestare attenzione anche alla condotta. Muoversi lentamente, una brutta condotta, cambiamento di passo, angoli arrotondati e non seguire il percorso corretto, parallelo a linee immaginari di connessione, sono errori. Non sono permessi i comandi supplementari per le posizioni. Se il cane assume la posizione sbagliata e il conduttore se ne accorge, il conduttore non dovrà dare un comando supplementare. Questa posizione è persa in ogni caso. Doppi comandi e il linguaggio corporeo sono penalizzati severamente. E' molto importante. E' anche molto ben spiegato l'obbedience. Non sono molto ligi a dare tutte le informazioni necessarie. Mi piace un sacco leggere il regolamento di obedience. Parlando sempre di obedience per i controlli a distanza, quindi le posizioni a distanza, leggiamo. Comandi terra, resta seduti in piedi, terra e o gesti con le mani. Esecuzione. Il cane viene messo in una posizione a terra nel posto prestabilito. Su indicazione il conduttore lascia il cane e si porta nel posto assegnato a circa 15 metri dal cane. Il cane deve combinare posizioni 6 volte in piedi seguito a terra e rimanere nel suo posto originale. La sequenza di esecuzione delle varie posizioni può variare, ma sarà la stessa per tutti i concorrenti. Ogni posizione è eseguita 2 volte e l'ultimo comando per cambiare posizione è terra. Il commissario indica al conduttore, con disegni o scritte, con quale sequenza il cane deve cambiare di posizione. Il commissario non deve essere in grado di vedere il cane mentre mostra le istruzioni. Il commissario deve cambiare indicazioni circa ogni 3 secondi. Il conduttore può utilizzare comandi verbali e gesti con le mani insieme, ma devono essere brevi e utilizzati contemporaneamente. Dietro al cane si definisce un limite mediante una linea immaginare che unisce due marcatori. Direttive. Deve essere enfatizzato quanto il cane si muove, la velocità con la quale cambia di posizione, la chiarezza delle posizioni e quanto bene le posizioni sono mantenute. Per ottenere punti il cane non deve muoversi in totale per più di una lunghezza del proprio corpo, in qualunque direzione. Credo sia mezzo metro la tolleranza. I movimenti avanti e indietro si sommano. Giusto, onesto. Se il cane non effettua una delle 6 posizioni, non si danno più di 7 punti. Tuttavia, se il cane salta una posizione e prende la posizione successiva, l'esercizio non è superato. Madonna. Il cane deve cambiare posizione su comando almeno 5 volte per ricevere punti. Anche qui, molto chiaro, molto deciso, non mi piace. Leggiamo adesso la Ipo R. Che per me è, non dico spettacolare o meglio delle altre, però è molto particolare. Come se fosse tutti i punti difficili delle altre discipline messe insieme, che rendono il presente un unico esercizio. Non è diviso come l'IGP, però è particolare. Soprattutto ha dei punti di difficoltà completamente diversi rispetto agli altri. Leggiamo. Esercizio e controllo a distanza. Esecuzione. Dalla posizione base, il conduttore cammina con il cane in condotta in linea retta. Dopo circa 10-15 passi, il cane si deve sedere prontamente a un comando vocale o visivo seduto da parte del conduttore. Senza che il conduttore interrompa la sonda turno, si volti verso il cane. Dopo circa 40 passi in linea retta, il conduttore si ferma, si gira verso il suo cane e lo richiama a sé con un comando vocale o visivo per vieni. Il cane deve accorrere in modo gioioso e veloce verso il suo conduttore. A metà della distanza tra il cane e il conduttore, credo circa, quindi a ventina di passi, il conduttore dà un comando vocale e o visivo al cane per il terra. Il cane si deve sdraiare immediatamente. Parlo sempre della B. La differenza dell'epo R è che c'è V, A e B, non ha 1, 2, 3. V è per piedi buttanti, quindi sono tipo 1 e 2. Su l'indicazione del giudice ed esame, il conduttore dà al cane un comando vocale e o visivo per la posizione in piedi. Quindi il cane sta fermo e va in piedi. Sul ulteriore indicazione del giudice ed esame, il conduttore richiama a sé il cane con un comando vocale o visivo al fronte. Il cane deve accorrere velocemente con gioia e sedersi davanti, vicino al suo conduttore. Su un comando vocale o visivo il cane deve mettersi prontamente nella posizione base. Valutazione. Se la distanza tra il primo richiamo e l'assunzione della seconda posizione è superata per più di 10 passi, l'esercizio è valutato con un massimo di sufficiente. Le posizioni non mostrate svalutano secondo la descrizione del rispettivo livello di esame, quindi ai punti in base al livello in cui tu sei. Ripeto, per me è molto particolare. Bella, molto bella e particolare. Dà una sorta di riassunto difficile tutto quello che succede. Bene, questo era tutto quello che i regolamenti offrono per le posizioni. Le posizioni interesse appunto durante la marcia è ferme. Come abbiamo visto le bobine si è a tutte e due, in modellina solo una. La Ipo ce le ha singolo esercizio tutte e tre in movimento e la Ipo R le ha tutte e tre divise tra movimento e fermo. Le posizioni, ripeto, sono una cosa molto spettacolare perché denominano anche tanto come il cane è stato lavorato, se è gioioso, chiuso, in maniera pressante, in maniera molto aperta, perché lì si valuta molto l'espressione del cane e molto spesso il cane si è distante dal conduttore. Di conseguenza è più difficile un controllo se il cane è stato tipo troppo pressato o troppo aperto per appunto il mantenimento della posizione. Sono argomenti diciamo tecnici o comunque tanto tecnici, però l'idea è approfondire e fare paralleli perché da un punto di vista pratico la dicitura della Ipo R è molto simile alla Ipo. diecnici passi, mantenimento della posizione base, di conseguenza si vedono e si denominano anche delle influenze. Nel regolamento Mondiorin ci ho scritto come da Obedience per quanto riguarda far vedere le posizioni, di conseguenza si vedono proprio tutte le influenze e tutte le difficoltà. Posso dirvi che l'Obedience ha due esercizi per le posizioni, quindi ha la totale dell'esercizio di posizioni e con coefficienti diciamo io vedendo il regolamento 3-4 sono per la maggiore, 4-5 sono pochi. Di per sé il lavoro dietro è molto accurato perché un punto perso per 4 ci perde 4 punti. Di conseguenza è un bel esercizio difficile perché per essere pulito e prendere il massimo diciamo che moltissimi cani non hanno grandi preoccupazioni o problemi a farlo ma avere il 10 su 10 quindi la perfezione è molto difficile, è veramente molto difficile. Spero che il video vi sia piaciuto e arrivederci alla prossima, grazie.